Ciao, sono Giuseppe Zarbo, ho chiuso il day 2 con 241 e 900, giornata abbastanza tranquilla, ho cominciato con 150.000 e 900 e a ogni break sono riuscito a salire da 20-30.000 ad ogni break senza mai mettermi troppo a rischio, l'ultima mano non l'ho giocata come volevo però ho perso 20.000 sull'ultima mano anche se l'avrei potuto vincere, mi è andata bene così e spero di continuare su un day 3 nella stessa direzione. Ciao a tutti!